è fuori di sé. Così i suoi pensano di Gesù a tal punto che lo prelevano da casa. Perché fuori di sé? Perché si trova a fare delle cose che superano degli schemi, superano delle coordinate. Ma vedete ci sono due tipologie di fuori di sé. Il primo molto comune oggi colui che è fuori di sé perché è tutto proteso per sé. Tutto ciò che fa lo fa a danno degli altri perché ciò che interessa è il suo appagamento, la sua soddisfazione e fa delle cose folli a scapito degli altri, a scapito della società, a scapito del mondo. Gesù invece ci rappresenta un altro fuori di sé. E fuori di sé perché è tutto per gli altri. Tant'è vero che in ebrei leggiamo che lui è quel sacerdote che offre tutto se stesso, offre il suo corpo, offre il suo sangue, offre la sua vita. Magari io, tu, noi, fossimo fuori di sé. Ma come lo è Gesù di uno che si dimentica totalmente di sé per donarsi agli altri? Che Signore ci doni dei cristiani che fanno vedere al mondo che sono fuori di sé come Gesù Cristo. Buona missio.